allora ragazzi vediamo le avventure di blur ci abbiamo un po di cose da raccontare c'è pure un bel video molto interessante eh vabbè quello si la prenderò da dietro e ve lo dirò allora sono molto curioso delle ah altra pubblicità come facciamo a non commentare questa pubblicità ragazzi è il nostro mestiere ok fabio de luigi pavesini vabbè non so chi ha scritto questa pubblicità comunque mi dispiace per la live di green di ieri in che senso le dispiace come si sentiva in che senso eh come si sente scusate in che senso le dispiace ah no dell'altro ieri covac no dei ieri ieri io mancava vedere la chat poi io se me insultano raga che cazzo le devo dire io l'ho detto ma l'ho detto proprio live un altro io non vado nelle live in cui vado da tempo per farmi insultare ma vabbè poi è andato tutto a pace comunque c'è stanco vai allora spero informatore proprio ecco questo è un bastardo eh tu sei un bastardo cioè lui live è venuto live da me solo quando c'era lasagna sto bastardo e poi e poi ha detto guarda la cosa peggiore non è stata entrare in una live di rubino lì mortacci tua sapete che sei entrato perché hai visto lasagna come al solito caro Gianmarco è mia sorella lasagna il cazzo tua sorella lasagna Gianmarco Gianmarco cioè mai entrato quando è stata lasagna è entrato incredibile è credibile fantasioso poteva succedere incredibile incredibile ma andiamo avanti se no qui non finiamo più allora ciao ciao